La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Alessia Araneo, ritorna sulla questione del nosocomio di Melfi e sull'opportunità di trattenere in servizio il dottor Cuomo, replicando le dichiarazioni delle DG dell'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza Spera, ribadendo che il suo era un appello alla collaborazione e a lavorare insieme per consolidare un reparto, quello di ortopedia, oggi pienamente funzionante, malgrado le tendenze generali, Araneo sottolinea che il suo intervento era atteso a tutelare l'eccellenza del territorio. Per l'esponente del Movimento 5 Stelle, il trasferimento all'azienda ospedaliera di Salerno del dottor Cuomo non si può archiviare solo come una scelta personale, in quanto più volte lo stesso ha rimarcato la sua volontà di continuare a lavorare presso l'ospedale di Melfi. L'obiettivo del suo intervento, evidenzia ancora Araneo, era quello di mobilitare tutte le forze politiche, istituzionali e dirigenziali per evitare di lasciare scoperto un reparto che negli anni ha guadagnato forza e prestigio. Confermando la sua disponibilità ad incontrare il DG Spera, la consigliera del Movimento 5 Stelle si dice pronta a supportare qualsiasi azione a salvaguardia della migliore sanità lucana.